Ma il successo della Quarnago, prima di tutto, se non c'hai passione, se non c'hai cuore, per quello che fai, tutte le cose diventano dure, diventano cattive, vedi sempre buio. Ma se dentro in te vedi la luce e fai fatica anche, ma riesci a fare quello che pensavi di fare, allora è una grande soddisfazione e da una cosa arriva l'altra. Sono figlio di Contodino e me ne vanto. Io sono convinto che nella vita quando uno nasce, o che nasce per fare l'artista, o per fare pittore, per fare meccanico, io sono nato per fare biciclette. A Milano cercavano i ragazzi giovani e c'era scritto nell'oratorio, sai che nei paesi c'è l'oratorio, e cercano ragazzi giovani e ora un mio amico che era già andato cinque giorni prima, mi dice vieni ti porto in una fabbrica di biciclette che si chiamava Gloria. Quando siamo arrivati, mi dice questo mio amico però, tu hai tredici anni, non ti prendono, sono venuto a Milano, ne dico che ho quattordici. Ho falsificato un anno, quattordici anni, mi hanno preso a fare il saldatore. Quando è iniziata la carriera ciclistica? Ho cominciato a quindici anni, e là c'è una fotografia, quella là, che è quindici anni, c'è sul 47, la prima corsa che ho vinto, quella corsa e quella bicicletta là. Sono andato ancora a lavorare, soldi non ne avevo, fino a quando ho cominciato a fare il primo capannone, compagnia bella, e dopo ho cominciato ancora ad andare in bici perché stavo meglio, io avevo vent'anni, vent'uno, vent'anni anni, e ho incontrato uno dei campioni, sai che dei campioni inoltre c'era Coppi, Barteri e Magni, e trovo in allenamento Fiorenzo Magni, che ha vinto due, tre, giri d'Italia. Eravavo in un beveratoio, sei o sette corridori, così, e mi dice, mi fa male la gamba, ho preso la bici nuova l'altro giorno, il mio meccanico, però mi fa male la gamba. Io gli dico, Sio Armani, guardi che lei, le fa male la gamba, perché c'è una pedivella più avanti e più indietro. Madonna, non si è fatto la salita, si è tornato a casa, si è passato nel mio negozio, quando ho visto il negozio non volevo mica entrare, la tuffa, ma lavori in questo bucicatto, questo bucicatto, in Toscano, bucicatto, in questo buco, loro in questo... Allora, no, ma vado da me in meccanico. Allora, un corridore assieme si chiamava Albani, che era lui professionista, campione italiano, gli dice, guarda che è una persona seria del resto, gli metto a posto la chiavetta, lo sistemo, le pedivelle sono perpendicolari, lui, andava a Monza, ha fatto il giro della Brianza, è tornato a casa, la gamba non fa male più. Il giorno dopo mi manda a chiamare, dicendo, vuoi venire al giro in Italia a fare il mio meccanico? Andare più avanti devi andare al tuo armonio, e dove vai? Al tuo armonio devi andare nel Ferrari. Il vicepresidente, che era un capo dentro lì, Compagnia Bella, mi ha portato a conoscere Enzo Ferrari, e lui mi ha fatto delle domande, mi ha dato il permesso di andare avanti col suo ingegnere, a sviluppare il carro. Però gli ha detto, ricordatevi, che la bicicletta è la macchina più perfetta, perché sale una persona di 70 kg e in discesa va a 70-80 kg l'oro, mentre la nostra macchina, che va su un pilota di 60-70 kg, quanti quintali è pesa? E va a 300 kg l'ora, ricordatevi. Quando ero con l'Amapei, ho convinto il dottor Squinzi, che era a Parigi, per partire con la bici in carbonio, tutto il mondo, i giornalisti, i tecnici, tutti compresi, dicevano che sarebbero rotto sul pavè. A male in cuore me l'ha detto, però succede qualche cosa, la colpa è tua. Non ho mica dormito, ho stato in televisione, e quando ho visto uscire dall'inferno del nord, del pavè, 6-8 corridori, c'era dentro 3 Mapei, ha vinto Carmoie. E di fatti abbiamo vinto lo primo Parigi Europeo, ma abbiamo vinto 5 a fila. Le mie biciclette sono come i figli, i figli non sono mica tutti uguali, uno è bravo, meno bravo, l'altro fa il prete, l'altro fa il cazzare, però sono i tuoi figli. Ora per me, le biciclette, sono tutti uguali. Però, la prima che ho fatto, ce l'ho nel cuore, perché quando l'ho fatta, ce l'ho messa tutta, hai capito? questo è il discorso, perché quello che conta, che dai quello che hai dentro, poi è tanto, è poco, ma hai dato tutto, tu sei sereno. Questa è la colonna. Io non ho parole, vi ringrazio tutti, vi faccio tanti, tanti, tanti auguri. Grazie a lei, che da 65 anni, porta tanto piacere, a milioni di persone al mondo. E alla prossima! Grazie a tutti.